Buona giornata. Quanto è importante la punteggiatura nel saper leggere un discorso, nel saper leggere un libro per comprenderlo, così come anche nel parlare. Quanto è importante la punteggiatura? Perché la punteggiatura dà occasione di fare delle pause, di avere un silenzio tra una parola e l'altra, tra una riga e l'altra, ecco, in modo che io possa capire e comprendere meglio il testo. Quanto è importante anche in questa quaresima saper fare delle pause, che non vuol dire perdita di tempo, ma dà un significato a ciò che sto facendo, dà un significato e anche un compiersi delle cose che voglio fare e che voglio, diciamo così, indirizzare, desiderare. Se notate anche l'importanza delle pause in uno spartito musicale, l'importanza delle pause in una canzone, in un testo di un canto, ma anche di una melodia. Ecco, perché non in questa quaresima continuare, ma avere la possibilità di ritagliarsi questo tempo di pausa che non è assenza, ma che è pienezza per dare un significato laddove siamo. Il Signore ti benedica. Buona giornata.